E' giù, vai di vedetta! Com'è la situazione lassù? Sereno con nuvole sparsa! Vuoi il permesso di far diventare Crep una pedina? Spapolati! Crep! Preparati a passare dei guai! Dei guai molto grossi! Proteggeremo il mondo della devastazione! Uniremo tutti per morire la nostra nazione! Denonciere! Miaoo proprio! E' ciù, la prossima volta che ti verrà in mente di sentirti nostalgico sarò io stesso a maciullarti il cranio! Però, sai, un po' di nostalgia mi viene ripensando a tutte le volte che Crep ci ha spedito in ospedale! Che verso è quello? No, Adri, non vi resta di cucchiare! Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-No! Grazie a tutti.